Presentati ufficialmente i 24 candidati della lista sinistra per Fano a sostegno del candidato a sindaco Teodosio Ospici. Un'età media dei componenti che varia dai 20 agli 80 anni, che rispecchiano varie professioni lavorative, dal docente all'operaio all'ingegnere al pensionato fino alla casalinga, accomunati però dal bene per la città di Fano. Sono molto contento della nostra lista, come ho detto prima in conferenza stampa, addirittura abbiamo lasciato fuori anche altre persone, un risultato per niente scontato. Alcuni mesi che abbiamo preso questo impegno, è un impegno nostro per coerenza, è un impegno verso la città, vogliamo dare una voce di sinistra, vogliamo dare la voce anche agli ultimi, vogliamo portare pezzi di società reali come è composta la nostra lista. Intensa anche la presenza femminile all'interno della lista con ben dieci candidate con l'intento di creare una nuova politica basata su idee future, anche per le nuove generazioni. Io credo che la politica siamo noi, siamo noi uomini e donne che vogliamo uscire dall'indifferenza e vogliamo occuparci del bene comune. Quindi per me questa candidatura è una grande emozione e anche un grande impegno. Io credo che questa città abbia bisogno di uomini e donne che ci credono con tutto il rispetto per tutti gli altri candidati, che però con l'esempio, con la coerenza, con lo studio e con la passione possano provare a progettare e a pensare a una città diversa. E questa è la ragione per cui io mi sono candidata e per cui abbiamo costruito anche questo progetto politico in questa città. Tra i temi la lista si pone a difesa della sanità rimarcando il concetto della contrarietà della privatizzazione in quanto occorrono servizi decentrati o meglio diffusi sul territorio aumentando così di fatto la qualità della vita dei cittadini. Altri temi in cui si schiera invece riguardano anche la disabilità, politiche giovanili e gli spazi pubblici dismessi che possono essere anche incentivi per i giovani di fare impresa, poi ancora incentivare la politica dell'immigrazione e accoglienza. Con il nome Fano protagonista, inoltre la lista ha deciso di candidarsi in quanto non si sentono rappresentati dall'attuale candidatura di Seri che secondo loro non rappresenta una vera e propria sinistra politica. Non possiamo rimanere con una coalizione che dice una cosa e poi non lo fa. Il nostro slogan è che la sinistra non si dice ma si fa. Non si può dire che sei di sinistra e poi votare la variante per fare una clinica privata. Ci vuole coerenza. Noi questa coerenza non l'abbiamo vista e ci mettiamo invece la nostra.